Qui alle nostre spalle c'è un massaggio molto particolare, non ho mai visto fare un massaggio con i piedi, come si chiama questo massaggio? Vediamo qua il maestro Pedron che sta effettuando un talari, che è l'unico trattamento in Ayurveda che si pratica appunto con i piedi. Veniva effettuato sui guerrieri in epoca vedica in India, dopo la battaglia, dopo l'allenamento, per migliorarne le qualità atletiche. Ma perché proprio con i piedi? Con le mani uguali o no? No, nel senso che il guerriero a livello di corporatura si pensa che sia piuttosto, perlomeno atletico e quindi con il peso del corpo si agisce più in profondità. Ma lei lo consiglia a che tipo di paziente questo massaggio? A tutti. Perché a livello terapeutico fa bene e poi perché è piacevole. Sostanzialmente poi è una cosa che noi non siamo abituati a provare. Il fatto di essere sottoposti a un trattamento, a un massaggio con i piedi, è un qualcosa per noi nuovo e quindi ci dà delle sensazioni particolari, nuove. E allora dal massaggio degli antichi guerrieri, buongiorno mattino. Buongiorno mattino. Buongiorno mattino.